Sono 137 gli doni di concorsi tenuti nel Comune di Lecce nel 2011 e nel 2014, che sono stati assunti a tempo indeterminato da altri comuni. E' andata ad esaurimento quindi quella graduatoria di cui tanto si è parlato negli anni scorsi, per la quale i diretti interessati hanno addirittura scritto al Ministro. Una graduatoria che ha permesso di realizzare il sogno del posto fisso a tanti partecipanti, sicuramente molti non più proprio giovani, e qualcuno di loro vicino, vicinissimo anche a nomi noti della politica salentina. Una graduatoria però che non ha certo aiutato il Comune di Lecce, tanto che proprio il sindaco Carlo Salvemini scrive la sua amarezza sui social. Dal 2017 ad oggi sono andati in pensione 125 dipendenti del Comune di Lecce, altri ne sono previsti a partire dal 2021. Nessuno di loro è stato sostituito, in quanto trovandosi il Comune in una situazione di predissesto, non ha possibilità, per legge, di fare nuove assunzioni a tempo indeterminato. Sono così rimaste sguarnite le scrivanie, vuoti gli sportelli, smesse le diviste nel caso di agenti della polizia locale. E' aumentato il carico di lavoro per i colleghi rimasti. Si sono perse capacità ed esperienze, si è mancata l'opportunità di ringiovanire la macchina amministrativa, scrive Salvemini che continua. Il paradosso è che il Comune di Lecce, che non può procedere al ricambio dei suoi impiegati che vanno in pensione, in questi anni ha comunque garantito ad altri Comuni di poter attingere la propria graduatoria, frutto dei concorsi pubblici banditi nel 2011 e nel 2014. Così 137 giovani idonei a servire la pubblica amministrazione, 20 istruttori di vigilanza, 2 funzionali tecnici categoria D, 4 istruttori tecnici e 111 istruttori amministrativi categoria C, sono stati assunti a tempo indeterminato in altri Comuni. Lo scarto esistente tra 125 dipendenti pensionati di Lecce, 137 che il Comune è riuscito a far assumere altrove, grazie alle convenzioni per l'utilizzo della graduatoria stipulata con altri enti, descrive la contraddizione nella quale ci troviamo, con la quale ogni giorno ci misuriamo, impegnandoci a fare bene con meno, conclude il Sindaco.